comunque questa è la definizione di stanchezza sono tipo dilaniato dopo ieri sera però oggi un po di soletto fuori ah signori signori ragazzi dilaniato dopo ieri sera cioè c'è bisogno di prendere un po una boccata d'aria oggi ci stiamo facendo questa mini passeggiatina e poi al com'è che si chiama agribierificio la orno niente ragazzi siamo arrivati io più stanco che mai non so se vi ricordate qua c'è stata una festa qualche mese fa a tecno e anzi c'è abbastanza spesso e niente mamma mia questo è lo sguardo di una persona morta non ve lo dovrei mangiare un tagliere o qualcosa di buono buon appetito buon appetito con calma ragazzi ci ripigniamo c'è la seconda coca cola che mi sparo perché se no qua non andiamo a nessuna parte ok allora adesso il piano in teoria era andare giù di là per fare la passeggiatina solo che visto che lì tra poco farà completamente buio torniamo sulla macchina e dopo da lì capiamo se prende la macchina direttamente a casa oppure fare una passeggiatina di sopra vediamo un po come è il mood io la gamma è morta tagliamo per i campi tagliamo per i campi andiamo a vedere questi cavallini come sono messi che tra l'altro la carne di cavallo è buonissima adesso darà un calcio ciao cavallini cavallini chiamali cavallini che bello come si chiama lo scritto si si il foliale il foliale il foliale qua compriamo una cameretta ma poi mi sa che queste salone con vetratta queste case qua sono più poveri no no fate quello a livello di catastro a livello di catastro penso che non sia in casa penso che sia tipo eh no infatti we did it jo oh il sole il sole ha visto il post della Cheyenne quando ha vinto Trump ha scritto we did it jo è vero 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 perché ho un po' di amici americani no e adesso il presidente Trump ha stato eletto quindi gioia e dolori un sacco di gente che lo odia un sacco di gente che lo ama io mi trovo nel mezzo a dovere ogni volta trovare a mediare tra le parti che ridere comunque bellissimo bellissimo tutti con le scarpe slacciate qua mamma mia i colori giusti i colori giusti c'è qua qua il cinema con l'ombra qua il cinema vediamo vediamo l'erba premium ma che carini adesso gli diamo un ciuffo ciuffetto non mi mordere niente non mi mordi e la mano niente che belli che belli che siete però non mi fate neanche accarezzare la vien qua ho toccato attenta al guanto o toccato o morino per paura che mi ha mi ha fatto in modo molto gentile laterale qua come ci insegna il qualsiasi film del far west adesso con questo calpello nel cavalco 1 al mio destino vai ciao ciao che bello che sei ma secondo te questi sono da sì c'è non si mangia no no manda via i cuccioli i piccoli aspetta via la zampa che questo che piccolo che è un asinello ha paura beh comunque che luce pazzesca che c'è qua e la mamma proprio la golden hour il momento giusto per fare le foto albi si mette in posa guarda 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 santo Gesù va bene Per far fare la foto che una foto è una foto di Juve che pare evitata buon filmato codice nella vostra sicurezza c'è circa un video non le che sarebbe a farvi interessare sia stato mi� Pomona am dispetto denigli momento le cose più belle della vita sono gratis mamma mia e lo dice lui e non mangiavamo ragazzi poetico poetico per me una casetta bosco piacerebbe avere una vita dici una perla per appena detta una questo vuol dire avere un cane guardate come prova a dormire con la lingua fuori mamma mia neanche accendendo la luce si sveglia poverino comunque ragazzi oggi a parte che sono completamente devastato da ieri tuttora oggi è stata una delle parole che ho detto di più ma è perché insomma dormito tre ore letteralmente tre quattro ore stanotte ieri mi sono sì è stato divertente tutto sommato anche se poi ho fatto io la spalla con la nicole mi ha fatto la spalla mi ha fatto un po gli stupidi tutto sommato abbastanza bene ma decisamente devo recuperare meno male che domani non sono al lavoro e neanche da remoto nel senso sono in ferie quindi a top posso dormire un pochino di più anche se devo fare un po di cose mandare la macchina dal meccanico fare il tagliando o la riunione con l'azienda e di borse la sera o la riunione con i ragazzi now you know del canale youtube americano alle 7 e poi come sapete lunedì dovevo editare quelle clips quindi nonostante io sia in ferie per il lavoro dell'ingegnere ho tutto il resto che insomma mi dedicherà del tempo ragazzi detto questo io vi invito a mettere mi piace commentare io purtroppo sono adesso devo andare a letto perché se no non si vive non si no non si può dormire non si vive qua assolutamente no e ricordate l'algoritmo si sfama delle vostre interazioni quindi su su spingete per bene solo che un cane può capire questo quando insomma gli spasmi perché fai i sogni brutti sogni con quella linguetta lì guarda guarda l'anello chissà cosa sta sognando poverina